Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video! Oggi vi faccio il video sui prodotti top, quindi sui preferiti dell'ultimo periodo. Sono diversi, ci sono veramente dei prodotti fantastici, delle scoperte fenomenali. Ma iniziamo subito! Allora, il primo preferito di questo periodo è una crema per le mani, veramente molto molto buona. Questa è una crema Eco Bio, della Eco Cosmetics. E l'ho comprata da Eco Verde, senza parapeni, SLS, peg, parafina. E senza siliconi e oggi I'm free. E' fantastica perché oltre ad idratare veramente bene, perché in pochissimi giorni mi sono ritrovata da mani distrutte a mani finalmente di nuovo normali. Oltre ad idratare benissimo, è fantastica perché si assorbe veramente subito. La mettete in due minuti e non avete più niente, cioè la pelle rimane proprio asciutta. Quindi è stata veramente una bella scoperta, promossissima. Poi un'altra scoperta fenomenale. In realtà già ve ne ho parlato in un altro video. Più che ne ho scoperta è una nuova versione di un prodotto. E' il deodorante della Schmitz, non so se si pronunci così. Ed è un deodorante fantastico. Penso il migliore deodorante esistente al mondo. Ve ne avevo già parlato perché io veramente odio tutti i deodoranti perché secondo me non funzionano. Ne ho provati tutti i tipi da farmacia, da supermercato. Finché non ho trovato questo, grazie a un video di Marta che me l'ha fatto scoprire. Solo che la versione precedente, se vi ricordate, era nel barattolino. Bisognava prelevarlo con una spatolina, massaggiarlo un po' con le mani e poi applicarlo. Invece adesso hanno fatto la versione in stick. Ho visto che è cambiata leggermente la formula, ma il risultato eccezionale è uguale, è veramente identico. Solo che è molto più comodo perché è in stick e quindi non bisogna stare ogni mattina a prelevare il prodotto con la spatolina, massaggiarlo e poi applicarlo. E' veramente fantastico, il deodorante migliore al mondo. Provatelo, soprattutto in questa versione Cedarwood. Vi metto sotto il nome esatto nell'info box perché è fantastico ed è anche eco-bio. Il che è stranissimo perché io pensavo che i prodotti naturali sono un po' delicati e non funzionano. Il prodotto è troppo troppo carino ed è questo che io indosso. E' veramente un color panna luminosino, luminoso, molto luminoso, molto bello. Per un trucco da tutti i giorni è anche una sera da sera luminoso, è fantastico. Poi, passando ai pennelli, nell'ultimo periodo mi sono piaciuti tantissimo alcuni pennelli della Neve Cosmetics. Iniziamo da quello per la cipria che è veramente bellissimo, morbidissimo, io lo adoro, lo volevo da tantissimo tempo. E' fantastico. E questo si chiama Lilac Powder. Poi uno un pochino più particolare che è il Torquoise ai buchi, che è una sorta di cabuchino piccolo piccolo che è fantastico per applicare il correttore sotto le occhiaie e tamponarlo. E' veramente molto carino e particolare, diverso dagli altri pennelli che si vedono in giro. E poi non mi ricordo se già ve ne avevo parlato in qualche altro video. Comunque mi è piaciuto tantissimo questa minica Buki. E mi sono piaciuti più di tutti. Questo che è, penso, l'Unicorn Buki, se non sbaglio. Rosa, è morbidissimo per stendere la cipria, anche questo è fantastico. E poi questo piccolino, che se non sbaglio si chiama Fox Buki, con la volpe. Ed è un kabuki fantastico, veramente ottimo per mettere il fondotinta. Lo adoro. Poi parlando sempre di idratazione, mi è piaciuto tantissimo un balsamo labbra che ho comprato ultimamente, nel mio ordine ecco verde, ed è il Bars Bees al cocco e pera. A parte che il profumo è veramente fenomenale, il cocco e la pera, mi piace tantissimo. Vi dico subito che a me non piacciono tanto i profumi troppo dolci, perché mi danno la nausea. Invece questo è buonissimo, mi piace tantissimo. E poi idrata benissimo le labbra. Ne avevo uno, non mi ricordo quale marca, è sempre di ecco verde, che non mi era piaciuto proprio per niente. Magari vi faccio un video flop. È stato proprio un periodo in cui avevo le labbra a pezzi, le mani veramente secchissime, e mi ha salvata. Poi, ultimamente ho provato la crema corpo dell'equilibra, alle mandorle, nutriente elasticizzante. Anche questa è senza parabeni, petrolati, siliconi e PEG, alcol, delicatamente profumata e senza allergeni. Ed è veramente buonissima, l'ho provata per un bel po' di sere, mi è piaciuta tantissimo, perché idrata veramente e nutre veramente la pelle, quindi super promossa. Poi, sempre nel mio ordine ecco verde, ho comprato un'altra crema corpo, questa volta è della Benecos. Si chiama Bio Body Lotion ed è all'albicocca e fiori di Sambuco. Ragazzi, ha un profumo che è una cosa spettacolare. Cioè, dopo che l'applicate, profumate di albicocca ed è veramente fantastica. Poi, un altro prodottino per il trucco che mi è piaciuto molto è questo, ed è della ELF, della linea Mineral Lipstick. Quindi la linea Mineral Lipstick, per l'esattezza è Runway in Pink, che è questo che ho indosso, che è un bellissimo color nude, effetto rimpolpante. Quando volete rendere le labbra più voluminose, utilizzate un nude con un trucco anche molto scuro, ci sta benissimo. A parte il packaging che è fantastico. E poi, eccolo qui. È molto carino, secondo me. Molto stile Angelina Jolie. E infine, un prodotto che mi piace molto, e ce l'ho da diverso tempo ormai, è questo qui. Il Tempera Matite della Neve Cosmetics. È fantastico perché ha due lati, uno più grande, uno più piccolo, la possibilità di cambiare tipologia di punta, e il raccoglitore del residuo della matita. Tempera benissimo, ve lo consiglio se vi serve un tempera matite per le matite da trucco, perché è difficile trovarne. Secondo me, trovarne un tempera matite è veramente buono. E niente, questi sono i miei prodotti preferiti. Aspetta i vostri prodotti preferiti tra i commenti. Fatemi sapere se avete qualche consiglio per me, così magari lo provo la prossima volta e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mua! Mua!